Sono aperte! Ripeto, le porte della base sono aperte! Ottimo! Sì, sono aperte! Muoversi! A quanto pare la festa è già iniziata. Ricevuto. Tenetevi pronti. Continuate ad attaccare con il bravo del baranza! Impiace altri rodini sul fianco sinistro! Signore! Questa bella si muove! Queste sono le altre sfere, sentite! Allora possiamo ancora parlare con il comando! Se riusciremo a riprenderlo! Ora mandi la squadra sul fianco sinistro! Vada! A quanto pare la squadra sul fianco sinistro! Ravinez! Trovate la squadra! Sto sento! Ravinez! Andiamo! Movimento sicuro! Secondo piano, ricevuto! Andiamo a passare proprio lì! Ravinez! Fateli fuori! Campio caricatore! Capito! 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 Sì, vabbè, 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 vabbè! Sì, vabbè, vabbè, vabbè! Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! 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 2 camion hanno appena lasciato l'edificio bersaglio. Pericolo ravvicinato. I veicoli in movimento sono stati distrutti. Attenzione, non abbiamo individuato Makarov. Ripeto, non abbiamo individuato Makarov e nessuno ha lasciato la casa. Forse i camion erano un diversivo. Ricevuto, ora procediamo nella casa. Ripulite il perimetro! Ripulite il rifugio! Via, via! Bonson! Bersaglio! Alle vostre orete! Bersaglio neutralizzato! Ufficio a posto! Andiamo, andiamo! Ozon, assicurati che nessuno scappi per la cucina! Ricevuto! Scarecrow, a rapporto! Nessuno esca dal lato anteriore ed estremi terrato! Sala da pranzo a posto! Bersaglio! Alle vostre orete! Herren, non li la credo! Sare di non lo scelto! Sare di non lo scelto! No! No! Orange, sali e controlla le stanze chiuse a chiave all'ultimo piano! Fai ruzione e ripulisci! Bersaglio ore 12 Ricevuto la vedo Ultimo piano a posto Ricevuto ultimo piano a posto Roach vai con Scarecrow e verifica la presenza nemica nel seminterrato Fai il ruzione e poi esci vai Copritemi Contatto nemico in movimento Bersaglio agganciato Bersaglio agganciato Semi interrato a posto Ricevuto, semi interrato a posto Via libera Squadra, tutti qui da me Scarecrow, scatta delle foto Ricevuto Shepard, qui Ghost Nessun segno di Makarov Nessun segno di Makarov Capitano Price, in Afghanistan Anche troppo Almeno 50 mercenari Ma non Makarov Forse i dati erano errati Beh, la qualità dei dati in nostro possesso sta per cambiare Questo rifugio è una miniera Ricevuto Ghost, ordinate alla squadra di raccogliere il possibile per stilare un copione delle operazioni Nomi, contatti, luoghi, tutto Lo stiamo già facendo, signore Makarov non potrà sfuggirci Questa è l'idea Sto inviando la squadra di estrazione Tempo di arrivo stimato Cinque minuti Raccogliete tutto Chiudo Roach, mettiti al computer di Makarov E inizia il trasferimento Ozon Copri le retrovie Davanti ci penso io Andiamo Arrivo Task Force Qui Price Al cimitero sono appena arrivati altri uomini di Makarov Sob, coprimi Ora sistemo quel tipo laggiù e intercetterò le comunicazioni con la sua radio Ghost Comunicazioni sospese per qualche minuto In bocca al lupo in Russia Chiudo Roach, nel seminterrato c'è un'armeria Fai il rifornimento finché puoi I uomini di Makarov cercheranno di impedirci di raccogliere queste informazioni Dobbiamo proteggere il modulo dati fino a trasferimento completato Usate i depositi di armi e piazzate delle Claymore se ne avete ancora Posizioni difensive, andiamo Pronto all'ingaggio Elicotteri nemici e rapido avvicinamento da nord ovest Sono in posizione Ricevuto Elicotteri nemici in arrivo da nord ovest Dobbiamo coprire il brato anteriore Nemico neutralizzato Vado alle finestre principali, serve qualcuno per minare e coprire il passo carraio Roach, piazza le tue Claymore sul passo carraio e torna dentro Contatto a nord Cambio caricatore C'è lo sottotiro Squadra RPG in avvicinamento da est Ricevuto squadra RPG in avvicinamento da est Individuate forze nemiche nella vostra posizione Stanno passando per i pannelli solari a est dell'abitazione Stanno passando tra i pannelli solari a est della casa Ricevuto cerco di spuntirli mentre attraversano la vegetazione Usate le Claymore se le avete Piazzatele lungo il sentiero a est della casa Scarecrow è a terra, ripeto, Scarecrow è a terra Bersaglio aggacciato Scarecrow è a terra Gost! Scarecrow è a movimento! Tredita! Scarecrow è a terra Scarecrow è un bravo flanco Nemico neutralizzato Squadra RPG in arrivo da sud-ovest Ok, squadra RPG in arrivo da sud-ovest Squadra Cechini 1, squadra d'assalto. Attenzione! Elicotteri nemici in avvicinamento da nord-ovest e sud-est. Elicotteri nemici fra 15 secondi. Ricevuto 15 secondi. Contatto a nord-est! Roach, trasferimento completato! Io copro l'aggesso principale, tu prendi il modulo dati! Versaglio alle vostre ore 2! Qui Shepard, siamo quasi all'area di atterraggio. Qual è il rotto stato? Passo. Procediamo verso l'area di atterraggio. Roach, andiamo! Roach, andiamo! Roach, andiamo! Roach, andiamo! Non fritte a me! Ozone! Mersagno le vostre oritre! Fuoco da mortaio sempre a noi! Avanzate ma occhio alle spalle! Cruci di campo io! Vai! Vai! Andiamo a arrivare all'area di atterraggio! Forza, Roach! All'area di atterraggio! Non fermatemi! Copro io, Roach! Resisti! Thunder 2-1! Usate il crematino rosso tra la vegetazione! Conte il mio segnale! Ricevuto contatto visivo con vengala, capito, roto all'azione! Thunder 2-1! Inghaggio autorizzato! Ricevuto, ingaggio autorizzato! Fuoco, fuoco! Roach! Resisti! Qui vai per 2-6! Prepararmi! Stop! Ah, ricevuto! Colpite di duro su quella colline! Ricevuto, G-3, attraggio in direzione 2-5-0! Roger, sono posto! Colline con atterrato! Occhio a cittinibit dei termici! Stop! Avete il modulo dati? Sì, signor! Beh, un problematino da risolverlo! Stop! Area sotto controllo! Tutti i nemici distrutti! Riceviamo forza e chiaro! Nessuna attività rilevata! Qui 2-6! Ritorno al volo circolare d'azienda! Ghost, rispondi qui, Price! Siamo stati aggrediti dagli uomini di Shepard dal cimitero! Stop! Difetti in siarco sinistro! No, fidate vini di Shepard! Fini di Shepard! No, fidate vini di Shepard! Stop! Stai giù! Stai giù! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ghost! Rispondi, Ghost! Mi ricevete? Qualcuno mi riceve? Sono morti, Sob. Shepard ha fatto pulizia. Sto cercando di raggiungerti. E ti bisogna fidarsi. Io non l'ho mai fatto. Nikolai, rispondi. Hai la posizione? Da, sto arrivando, Price. Ma non sono il solo. I uomini di Shepard da una parte e di Makarov dall'altra. Allora li faremo fuori tutti. Non lasciare che lo facciano da soli. Comunque, ci vediamo dall'altra parte, amico mio. Stop! Shepard sta cercando di spazzarci via insieme a Makarov. Vai al punto di incontro bravo a Ovest. Non fidarti di nessuno! No! 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 No!